Oggi abbiamo trovato in un cantiere questo ragno, è un po' mastodontico, gigante, ho un po' di paura, è proprio grande, sarà 4 centimetri o 5, guardate qua, guardate che forma che ha, ha anche le zanne, adesso lo portiamo di fuori su un albero, guardate che zanne che ha davanti, è impressionante, non penso che sia un ragno velenoso, io non ne capisco tante, se qualcuno sappia che tipo di ragno si tratta può commentare sotto nei commenti, è un bel ragnone, un bel ragno, non so che ragno è, che ragno si è, vedete è uscito da questo muro qua, è uscito dalla calce di questo muro qua, è uscito.